Per quanto riguarda il servizio da espletare, anzi la cosa va per le lunghe. Franco, devo... Non sarà mica quello lì? No. Ah no? Non mi pare proprio, non mi sembra. Perché si è messa a correre allora? Di pelati che ci sono, proprio per la ventuno di buttino dieci. Abbiamo beccato quello della rapina. Siamo... Doh siamo? Doh siamo? Via del pigneto, Franco, via del pigneto! Via del pigneto o tre, mandate rinforzi! Dai, dai! Aspetta, aspetta, oh! Dov'hai? Spettiamo che arriva, allora! De Paoli! De Paoli! De Paoli! Che c'è? Cosa c'è? Io ho la pistola in cielo. Che cazzo vuol dire non c'è la pistola? Non c'è la pistola. Perché ci riazioni senza pistola? Non me la porta la pistola in cielo. Resta qua. Se passa però firmalo in qualche modo, inventate una cosa. Resta di cazzo. De Paoli! De Paoli! De Paoli! De Paoli! Che è successo? De Paoli! Che droghi! Ma che è successo? Che state a fare? Polizia, vada dentro. Tutto a posto. They're not. Tutto a posto! Che preglie! Che preglie! Omm, lo se face! Che preglie! Che preglie! Che preglie! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.